Siamo giunti al momento della memoria, della memoria dei venti mesi della guerra di liberazione, una memoria che fino ad ora è stata divisiva perché da una parte e dall'altra ci sono state delle opinioni diverse. Però in questi ultimi anni la storia ha fatto grandi passi e di questi grandi passi ce ne parlerà il professore Ernesto Galli della Loggia. Se mai fosse necessaria una prova che tra il 1943 e il 1945 quella che si combatté in Italia fu una vera guerra civile, questa prova è certamente la cancellazione che dopo la fine della guerra colpì la memoria dei vinti. Infatti come si sa per molti decenni dopo la guerra i motivi non necessariamente tutti spreggevoli della lotta di coloro che si battevano dalla parte del fascismo, le ragioni di coloro che non avevano ragione ma che avevano qualche ragione, queste ragioni non trovavano naturalmente la minima ospitalità nel discorso pubblico italiano. Si trattò di quella che noi chiamiamo la damnazio memoria che da sempre, quando per l'appunto si tratta di una guerra civile, colpisce la storia dei vinti, la memoria dei vinti. Ben più raro però invece è il caso che un'analoga damnazio memoria sia riservata ai vincitori delle guerre civili, o almeno a qualcuno di essi. Precisamente questo caso, molto singolare, è stato quello occorso alla Brigata Osopo e alle sue vicende, per molti decenni ignorate o comunque messe da parte, radicalmente sminuite, se non addirittura, come dicevo, ignorate e occultate dal discorso pubblico del nostro Paese. Va si dire, ad esempio, che ancora nel 1980, in una enciclopedia della resistenza, curata da Enrico Boltrini, leggendario comandante delle Brigate Garibaldi, deputato, vicepresidente della Camera dal 1947, presidente a vita dell'Ampi, Ancora una volta, appunto, in questa enciclopedia non si fa alcuna menzione dell'esistenza dell'Osoppo tra le formazioni partigiane attive nella resistenza, ma non la si cita neppure sotto la voce attività del clero durante la resistenza. Agli Ossovani è dedicato in questa enciclopedia solo un cenno sotto la voce cattolici nella resistenza, ma appena un cenno dove si dice, peraltro, che l'origine dell'Osoppo era in realtà un'origine azionista. Se ne parla soltanto per qualche riga dell'Osoppo a proposito della Repubblica Partigiana della Cambia. Del resto, anche nel testo che è stato, almeno fino agli anni 70, un testo di riferimento essenziale per la storia della resistenza, cioè il libro di Roberto Battaglia, alle vicende dell'Osoppo non sono dedicati più di tre o quattro fugacissimi, davvero fugacissimi accenni, e il fatto di Porzius è dedicato solo una breve nota, dove si cita, tra l'altro, la conclusione della sentenza della vicenda giudiziaria, una sentenza che condannò, sì, morti dei responsabili del recidio, ma che però contiene anche delle motivazioni, in quanto, diciamo così, elusive, piuttosto pilatesche, delle motivazioni che secondo i giudici portavano poi all'ecidio, dove si dice appunto che in fondo la causa dell'ecidio, l'omicidio, appunto sono parole testuali della sentenza, ebbe come causa l'odio politico, parole testuali, l'odio politico divampato dall'anticomunismo di bolla, che sorpassando quello di ogni altro esplose in un ambiente infuocato e saturo delle più sconcertanti risonanze, parole veramente di difficile interpretazione, andando a cozzare contro l'animosa intolleranza di fanatici avversari. Insomma, quasi come se in fondo non si fosse stata tutta colpa di quello che era successo nell'anticomunismo un po' eccessivo di bolla. Perché nell'Italia postbellica la vicenda dello soppo si collocava in una maniera troppo evidente, al di fuori del canone con cui allora veniva costruendosi quella narrazione della Resistenza, destinata poi a restare gemone all'incirca fino alla fine del Novecento. Nei manuali scolastici, nelle trasmissioni televisive, nelle commemorazioni ufficiali si affermava, infatti, il canone di una resistenza profondamente unitaria, animata di uno spirito patriottico in ugual misura distribuito fra tutti i suoi protagonisti, da un antifascismo assunto come sinonimo, in quanto tale, simpliciter di libertà e di democrazia. Il canone si affermava, cioè, nel lungo dopoguerra italiano, di una resistenza per principio ugualmente amica di tutti gli alleati, vincitori dell'asse, indisponibile a qualunque distinzione tra alleati e alleate. Un canone così forzato, così evidentemente manipolatorio della realtà, che, diciamo così appunto, cadeva in una vera e propria manipolazione menzognera dei fatti. Era un canone anche in qualche modo, diciamo le cose come stanno, parente stretto della viltà. Se si sfoglia, ad esempio, l'organo ufficiale dell'Ampi, ci si imbatte nella cronaca di una visita compiuta a Belgrado nel 1968 da una delegazione della Resistenza, così viene definita, guidata da Boldrini, di cui ho già ricordato molte cariche, e da Riccardo Lombardi, che, come molti di voi forse ricordano, era un importante esponente del Partito Socialista. Ebbene, nel corso di questa visita, questa delegazione della Resistenza consegna al maresciallo Tito una medaglia d'oro e una pergamena che veca questa motivazione che vi leggo testualmente. Al maresciallo Tito, nel venticinquesimo anniversario dell'unità in armi tra la Resistenza Jugoslava e la Resistenza Italiana, che fiorì dopo l'8 settembre del 1943, per tracciare la strada di un nuovo fraterno legame, come in molte terre italiane che ebbero partigiani jugoslavi, fratelli nel sangue, vessato insieme per un mondo migliore. Facendo così, con queste parole, cadere un comodo velo di silenzio e di oglio su molte pagine di storia, molte pagine. Ad esempio, per dirne soltanto una, di circa 150 esponenti e simpatizzanti del Comitato di Liberazione Nazionale in Trieste, uccisi dalla polizia politica del maresciallo Tito nelle settimane in cui a quella polizia è possibile farlo perché, come ricordate, gli Jugoslavi avevano occupato Trieste. È evidente che in un tale panorama non poteva esserci posto per una vicenda così anomala, per una vicenda soprattutto così poco pacificatrice, ahimè, come quella dello Soppo. A proposito della resistenza, come sapete, perché appunto c'è stata una grande divulgazione di tutto questo, è ormai comunamente accettata la tripartizione formulata a suo tempo da uno storico molto importante come Claudio Pavone circa la contemporanea presenza e il sommarsi, intrecciarsi nella resistenza di una guerra civile, di una guerra di classe e di una guerra di liberazione nazionale. Proprio l'intreccio di queste tre guerre avrebbe costituito, secondo Pavone e secondo poi una vulgata molto diffusa ormai, il tratto tipico della resistenza, la sua peculiarità storica. Questa formulazione appunto di tre guerre presenti in una sola è stata accorta largamente perché è apparsa finalmente dal conto dell'indiscutibile realtà dei fatti, di quanto in realtà era veramente accaduto in Italia tra il 43 e il 45. A me sembra che proprio se si accoglie la definizione delle tre guerre allora però diventa veramente difficile sostenere un carattere sostanzialmente concorde e dunque un carattere sostanzialmente unitario della resistenza stessa. Infatti a me sembra che tra il concetto di guerra civile e il concetto di guerra di liberazione nazionale esiste tra questi due concetti una incompatibilità logica. Chi dice guerra civile dice una guerra tra italiani, ovviamente, con italiani da una parte e italiani dall'altra. E allora mi domando come può immaginarsi una guerra di liberazione nazionale dell'Italia combattuta da italiani contro altri italiani è molto difficile lo si può fare soltanto a due condizioni però palesemente piuttosto assurde cioè alla condizione che o come un giorno appunto venne fatto di dire a Pietro Nenni i fascisti non erano italiani parlavano, sapevano, erano stranieri che parlavano italiano questa è la bizzarra definizione di Nenni oppure che fossero dei semplici mercenari al servizio dei tedeschi cosa che in parte era ma in parte anche non era. Non rimane allora secondo me che una conclusione una conclusione problematica una conclusione contraddittoria e anche dai contorni sfumati non rimane cioè a mio giudizio che concludere che in realtà le tre guerre di cui sto dicendo riuscirono a intrecciarsi e a comporsi in un'unica guerra solo davanti al nemico tedesco e fascista solo di fronte al pericolo imminente di un suo attacco ma quando ciò non accadde quando appunto non c'era questo pericolo imminente dell'attacco del nemico quando nei momenti di tregua ebbero modo di emergere in piena luce le identità delle singole formazioni allora emerse ogni volta la diversità di intenti in nome dei quali ognuna di esse combatteva la loro diversità ideale e politica talvolta la loro profonda diversità ideale e politica quanto è accaduto in Friuli ne è la conferma in Friuli e quasi sempre nell'intera Venezia Giulia si manifestò infatti la difficilissima compatibilità per non dire la incompatibilità tra le tre guerre di cui stiamo parlando in particolare tra la guerra di classe e la guerra di liberazione nazionale la guerra di classe era la guerra che intendevano condurre i comunisti di fatto egemoni nelle brigate garibaldi ai loro occhi il fascismo era la medesima cosa del capitalismo e dei padroni sicché combattere il fascismo per davvero combatterlo alla radice si poteva fare e si pensavano solo in una prospettiva rivoluzionaria e socialista e siccome stando alla dottrina i rivoluzionari ispirati dal marxismo non conoscerebbero le beghe borghesi dei confini e delle nazionalità ma sono tutti fratelli dunque di queste cosquisquille come i confini e nazionalità non bisognava curarsi e tanto meno preoccuparsi ma nel 43-44 bisogna dire la verità neppure agli occhi di tutti i garibaldini e di tutti i loro capi le cose appaiono davvero così semplici molti garibaldini e alcuni dei loro capi sanno che sulle popolazioni slave che si sono ritrovate incluse nella regione dopo l'allargamento dei confini in conseguenza della vittoria italiana nel 1918 il fascismo ha esercitato un feroce e capillare tentativo di disnazionalizzazione e non ignorano quindi che adesso l'esercito di liberazione uroslavo i partigiani comunisti di Tito premono minacciosamente sui confini d'Italia mossi da quello che si può considerare anche un ovvio senso di rincita di rivalza e da un desiderio espansionistico vero e proprio non ignorano neppure alcuni molti alcuni i garibaldini alcuni pochi dei loro capi non ignorano l'intenzione palese degli uroslavi di occupare Trieste e il territorio italiano fino addirittura al tagliamento rivendicando nell'appartenenza al futuro stato comunista slavo anche nelle file comuniste insomma c'è chi si chiede se è giusto cooperare con le formazioni partigiane d'oltre confine in nome dell'internazionalismo proletario se è davvero opportuno sentirsi tenuti ad avere verso di essi un affeggiamento disponibile in un certo senso obbediente fino alla sottomissione quasi che gli uroslavi fossero una specie di fratello maggiore ma alle brigate garibaldi a un certo punto l'ordine viene dall'alto e si tratta di uno di quegli ordini che non si possono discutere la cui conoscenza va anche detto perché è importante la dobbiamo la conoscenza di quest'ordine la dobbiamo alle ricerche di archivio proprio di uno storico militante del partito comunista Paolo Spiano già il 24 settembre del 1944 Vincenzo Bianco un esponente di primo piano del partito comunista un suo dirigente che è stato alcuni mesi in Jugoslavia viene inviato a Trieste dal centro nord del partito con il compito di portare diciamo così gli ordini dal centro alle formazioni sul campo indica alle federazioni di Udine di Trieste la necessità di mettere le unità italiane partigiane che si trovano in quella zona operativa sotto il comando del nono corpus dell'esercito Jugoslavia nonostante alcune perplessità alla base delle formazioni garibaldine l'ordine viene eseguito e alla fine di ottobre la brigata garibaldine tisone passa sotto il comando straniero il 19 ottobre arriva infine il crisma definitivo dal livello più alto del partito a nome della direzione del partito comunista il segretario Togliacchi precisa le indicazioni di Bianco noi scrive le parole testuali Togliacchi consideriamo come un fatto positivo di cui dobbiamo rallegrarci e che in tutti i modi dobbiamo favorire l'occupazione della regione giuliana da parte delle truppe del maresciallo Tito questo vuol dire che i comunisti devono prendere posizione contro tutti quegli elementi italiani che si mantengono sul terreno e agiscono a favore dell'imperialismo e nazionalismo italiano e contro tutti coloro che contribuiscono in qualsiasi modo a creare discordia tra i due popoli la linea d'azione di Garibaldini è dunque segnata non a caso nel novembre del 44 pochissimo tempo dopo queste parole il partito comunista esce dal CLN della Venezia Giulia e alla vigilia dell'insurrezione della primavera del 45 il rappresentante dello stesso partito comunista nel CLN nazionale definisce il CLN di Trieste un comitato cito sciovinista antislavo che tratta coi nazi fascisti nelle parole di Togliatti nella loro non curanza per la realtà del sentimento patriottico non c'era come si capisce nessun posto per la guerra di liberazione nazionale e dunque quelle parole segnano pure l'inevitabilità di uno scontro dal momento che invece solo in vista di una guerra di liberazione nazionale e sotto la spinta di un sentimento patriottico era nata invece la brigata Osoppo che oggi ricordiamo voglio solo sottolineare la parte assolutamente centrale che in essa ebbe il clero una parte illustrata come meglio non si potrebbe da una figura decisiva quella di Aldo Moretti Don Lino ispiratore fondatore animatore instancabile dell'Osoppo a cui egli di depure il nome in ricordo delle lotte risorgimentali della città di Osoppo contro la dominazione austriaca durante l'isorgimento Don Lino fu l'unico sacerdote a mia conoscenza che sia stato responsabile di un esecutivo militare del CLN nel luglio del 44 prese anche lui la via dei monti per unirsi ai partigiani ma fu solo uno di molti dei tanti sacerdoti spessissimo parroci che in fiuli aderiscono alla resistenza è noto che nel 43 e nel 45 di fronte al crollo dello stato monarchico dappertutto in Italia la Chiesa ebbe modo di svolgere un ruolo di supplenza e di carità nel furore feroce della guerra la Chiesa rappresentò uno spazio di umanità e di misericordia spesso di preziosa mediazione e avvantaggio delle popolazioni e di tutte le parti in lotta non solo ma certamente furono dovunque non pochi sacerdoti e vescovi che con il cuore e talvolta con l'azione si schieravano dalla parte della resistenza ma quanto accadde qui in questa regione in fiuli non ha paragoni con nessun altro luogo d'Italia qui a cominciare dall'arcivescovo di Udile Nogara l'unico presure della penisola che lo sappia il quale nel settembre del 43 non esita a recarsi alla stazione dove fermo il treno che porta in Germania i soldati italiani rastrellati dai tedeschi fermandosi a benedire ogni carro ferroviario ed è lo stesso che un anno dopo non esita a combinare la scomunica ipso facto cioè per il solo fatto a chi con lettere anonime calugna persone ed istituti si capisce benissimo evidentemente a chi chi è che appunto scriveva lettere anonime di calugna nel 44 ma a cominciare dal vescovo è in pratica l'intera chiesa locale che diventa animatrice si può dire protagonista in prima persona della lotta di liberazione si tratta di un fatto veramente eccezionale che è l'esito per due fenomeni concomitanti da un lato del legame antico e tenacissimo della chiesa cattolica e dei suoi uomini con le popolazioni contadine di queste terre la comunità del villaggio è abituata a considerare il parroco che spesso è nato in quel villaggio come una sorta di suo naturale leader ed è ovvio che il ruolo del genere si rafforza nel momento in cui come viene dopo settembre si risolve ogni altro ogni altra struttura di comando ogni altro punto di riferimento esterno al luogo natio tanto più forte dicevo che questo legame tra le popolazioni contadine e i pastori cattolici a causa di un altro fattore perché di frequente le popolazioni e il sacerdote hanno vissuto fianco a fianco un'esperienza comune quello della guerra che naturalmente è l'esperienza della morte del pericolo e della morte come nessun'altra produce la reciproca conoscenza e un sentimento fortissimo di intimità e di solidarietà e così Don Lino che non a caso è stato infatti cappellano nell'esercito italiano e come tale si è guadagnato sul campo una medaglia d'oro al valore militare già alla fine del 43 chiede al vescovo di Udine di ottenere da Roma la facoltà ecclesiastica per i preti che scelgono di andare con i partigiani di avere il ruolo ufficiale di cappellano e da Roma Aldo Moretti ricorda Don Lino nelle sue memorie che proprio dal vescovo Castrense che poi in quel momento era il vescovo Castrense dell'esercito ufficiale repubblichino arrivò però il consenso a che appunto i preti potessero andare con le formazioni partigiani a fare il cappellano i preti dello soppo sono stati in gran parte come ricordavo cappellani militari spesso nelle unità alpine essi dunque non solo sanno bene cosa significa il messiere delle armi ma hanno anche avuto modo di conoscere molti ufficiali del reggio esercito nei giorni successivi all'armistizio non pochi di questi ufficiali del reggio esercito che tra l'altro sono reduci spessissimo dall'aver combattuto nei Balcani contro le formazioni partigiane che fine a piccoli gruppi di soldati sbandati hanno trovato rifugio e nascondiglio un po' dappertutto nella regione da questi uomini nell'autunno del 43 è nata una formazione autonoma comandata dal capitano Manlio Cengic allorché dunque le bande garibaldine che già sono sul campo rifiutano di mettersi agli ordini del CLN di Udine e quindi in qualche modo rompono l'unità dell'esistenza è abbastanza naturale che proprio Don Lino si metta in collegamento con Cengic Don Lino insieme ad uno schieramento più vasto che appunto comprende i democristiani militanti del partito d'azione liberali socialisti si metta in contatto con Cengic e insieme diano luogo il giorno della vigilia di Natale del 1943 all'Osoppo l'Osoppo non ha una precisa collocazione politica ma non ha assolutamente un carattere apolitico mentre invece appunto quasi tutte le altre formazioni autonome avevano sostanzialmente un carattere apolitico se non spesso non sempre monarchico la politicità non partiticità ma la politicità però dell'Osoppo ma lo dimostra in maniera chiarissima un episodio e cioè quando nel autunno del 1944 il vescovo prima ricordato il vescovo di Udine Nogara in un momento particolarmente difficile per la resistenza all'autunno del 1944 fatto è l'autunno del messaggio di Alexander che invita sostanzialmente le formazioni partigiane alla smobilitazione in più è una stagione dal tempo assolutamente inclemente che rende difficilissimo la vita in montagna in questo momento arriva un po' come una doccia gelata sulla formazione Osoppo la lettera con cui il vescovo di Udine che è rimasto scosso emotivamente anche dalle rappresaglie feroci che i tedeschi e i fascisti stanno commettendo da molte settimane invita i padrici della Carnia a cessare diciamo così dall'appoggiare il movimento parteggiano per primi gli esponenti della democrazia cristiana e poi tutta all'usoppo insorgono in modo molto veemente costringendo il vescovo a ritirare la lettera e allora ancora di più decidono di rafforzare l'educazione politica dei patrioti con un ruolo più attivo dei delegati politici in una guida per il commissario politico lo chiamano anche appunto con questo nome commissario politico si ribadisce che i partigiani devono essere cito testualmente gli assertori armati della nuova idea democratica italiana e si aggiunge che il delegato politico dovrà parole testuali spiegare come i vari partiti politici espressioni di libere correnti di pensiero siano uniti nel CLN per la liberazione di oggi e per la ricostruzione di domani alla quale tutti avranno diritto e dovere di contribuire liberamente con le proprie idee sul piano della democrazia fine della citazione al tempo stesso venne istituita una scuola per delegato politico le cui lezioni vertevano ognuno sulla storia e i profili dei vari partiti politici e ogni lezione venne affidata da Rosoppo a un rappresentante del partito politico interessato anche la lezione sulla storia del partito comunista venne affidato a un esponente di quel partito e infine poi al termine di queste elezioni c'era anche questo significativo un'elezione sulla democrazia inglese che venne affidata all'ufficiale inglese della missione alleata presso Rosoppo insomma è evidente il dato abbastanza straordinario l'ispirazione genuinamente pluralista che anima Rosoppo essa si legge in un documento vuole mostrare al popolo italiano come sarà la vita politica di domani quando nell'Italia nuova si potranno manifestare le più diverse idee politiche incentrandosi però nei grandi ideali dell'Italia e del popolo fine della citazione gli Osovani proclamano in molti loro documenti di essere una formazione popolare rivoluzionaria democratica sono sempre citazioni nata dal popolo quel popolo si legge che molte volte ha sofferto la fame che si è visto tante volte chiudere in faccia tante porte perché era povero e malvestito una formazione nata di nuovo un'altra citazione testuale in vista della lotta politica di domani in modo che il popolo sia salvo dai dittatori e dagli oppressori stranieri e probabilmente diciamo così dietro queste parole c'era una evidente allusione sono anche numerosi nei documenti dell'Osoppo le dichiarazioni nelle quali con forza si sostiene la lontananza degli Osovani dai borghesi reazionari vengono definiti così da coloro che volevano conservare i privilegi di classe o i privilegi acquisiti con il fascismo sono altresì numerose le dichiarazioni nei quali si propugna un ordine nuovo basato sulla solidarietà e su una vita collettiva come si vede rappela con molta chiarezza un disegno politico popolar nazionale disegno genuinamente democratico radicale e patriottico volto sì a combattere naturalmente il fascismo ma anche difendendo con le unghie e con i denti l'italianità della regione e comunque tutte queste parole queste dichiarazioni che abbiamo letto smentiscono il pregiudizio molto diffuso nella stereografia ripreso anche appunto da Claudio Pavone secondo il quale l'ideale politico degli autonomi sarebbe stato la restaurazione dell'Italia prefascista e quindi sono sempre sue parole un ideale meno rappresentativo storicamente del bisogno di novità che si manifestava nella resistenza certamente non è stato questo il caso dell'Osoppo non è questa certo la posizione dell'Osoppo sul confine orientale della penisola un disegno ideale politico come quello dell'Osoppo incontrò però come sappiamo bene straordinarie difficoltà nello stesso campo italiano a riprova del fatto che per la resistenza l'unità politica fu un problema sempre di difficilissima soluzione e ben o male i vertici di Milano o in sede di CLN locale alla fine risultava più o meno abbastanza facile comporre di signore perché si trattava alla fine di scrivere dei documenti invece quando si trattava di trasferire poi gli accordi i compromessi sul campo sul terreno tra le bande di diversa ispirazione delle cose andavano invece in un altro modo molto diverso tanto più qui in Friuli Venezia Giulia regione che dal settembre del 43 per la sua cruciale posizione geografica immediatamente al confine con il Terzo Reich fu incorporata di fatto nella Germania mentre il regime di Salò e i suoi organi si trovarono del tutto estromessi e privati della benché minima autonomia relegati di fatto nella parte di puri e semplici scherani del padrone nazista il quale a un certo punto decise come si sa di avvenersi pure di migliaia di cosacchi che installò nella Carnia da qui nonché ovviamente dalla presenza anche della guerriglia slava molto guerrita la straordinaria feroce che ebbero le operazioni repressive dei tedeschi in tutta la regione e a Trieste in modo particolare e da qui anche la duplice natura tenuta per quanto possibile dietro di quinte della lotta della resistenza e dei suoi obiettivi che era lotta per la sconfitta del nazismo e del fascismo ma insieme lotta anche molto dura per il futuro assetto politico territoriale della regione e in Friuli infatti la situazione la tensione tra queste opposte diverse lotte divenne sul terreno così carica di tensioni non solo per esempio da produrre uno scontro di fatto tra inglesi e americani che erano appunto avevano missioni diverse nello schieramento dello Soppo e nello schieramento dei Garibaldini ma appunto le tensioni furono così forti che i Garibaldini a un certo punto arrivarono a minacciare di affestare l'ufficiale inglese che era nella missione presso lo Soppo e che non amava molto la linea politica che Garibaldini seguivano e su questo sfondo drammatico che avviene non il fatto di Porzusso ma il ciglio di Porzusso che fu appunto in qualche modo l'episodio culminante perciò simbolico di quel clima creatosi dopo l'8 settembre sul confine d'Italia e il 7 febbraio il 45 allorché un centinaio di partigiani comunisti quasi tutti appartenenti al gap di Udine arriva alle malghe di Porzus ultimo avamposto verso oriente dello Soppo dove si trova il comando del gruppo delle Brigate Est immediatamente fucila una parte dei partigiani dello Soppo che trova tra cui il comandante Francesco De Gregorio Bolla e il commissario politico Gastone Valente Enea gli altri partigiani dello Soppo costretti a scendere a palla e vengono portati nella zona del Bosco Domagno e suicidati in piccoli gruppi solo due sono risparmiati perché accettano di passare nelle file del Garibaldi in totale rimangono sul terreno 17 o 18 sono il numero non è incerto 17 o 18 uomini tra cui persone tra cui una donna che si è trovata casualmente nelle malghe perché accusata ingiustamente di essere una spia che era andata lì per discolparsi l'ordine dell'Ecidio oggi lo sappiamo è venuto direttamente dal partito comunista di Udine su pressione delle forze titine e a dimostrazione che l'Ecidio è parte di un disegno politico più ampio pochi giorni prima altri tre combattenti dello Soppo sono stati catturati da elementi slavi del nono corpus e passati immediatamente per le aree anche questi morti vanno ad aggiungersi agli oltre 700 partigiani dello Soppo che alla fine della guerra risulteranno caduti nella lotta di liberazione non pochi dei quali hanno visto la propria vita spegnersi dopo efferate torture ad opera dei carnefici tedeschi fascisti o cosacchi caduti non solo per la liberazione dell'Italia dall'evitatura fascista e dall'occupazione tedesca ma anche perché l'Italia fosse il paese libero che noi da allora conosciamo la Repubblica ha alle sue spalle questo irto e doloroso passato ma non solo anche la sua vita le sue vicende postelli che non sono state certo facili la Repubblica ha dovuto superare le conseguenze di una catastrofe militare accompagnata da una mole di distruzione senza pari ha dovuto superare i ricordi amali di una guerra civile effettiva durata un anno e mezzo e di una guerra successiva nei decenni successivi di una guerra potenziale civile durata a lungo lo Stato lottente per fortuna ha dovuto fare i conti con ingiustizie e contenzioni sociali aspri con l'eredità nascosta del fascismo e del comunismo la cui eco è risuonata lugubre ancora per tutti gli anni settanta nell'attacco armato mosso le contro dal terrorismo rosso e nero e tuttavia più forte di tutto si è mostrato ogni volta la potenza vitale della libertà della semplice libertà senza accettivi ogni volta il radicamento dei nostri ordinamenti democratici si è mostrato maggiore delle suggestioni palingenetiche della violenza della deriva che conduce alla dittatura e alla disgregazione ma se tutto ciò è accaduto se l'Italia è ancora in piedi per fortuna se l'Italia è ancora qui nel Friuli e nella Venezia Giulia lo dobbiamo in un piccola misura alle donne e agli uomini dello soppo che in una situazione drammatica come poche seppero mettere in gioco la vita per conservare i propri focolari e la propria fede e con essi quella libertà e quella patria che continua ad essere la nostra grazie ringraziamo il professore Ernesto Galli della Loggia è arrivato il presidente del consiglio regionale Zanin che invitiamo a portare il suo saluto le istituzioni molte volte allontanandosi nel tempo quei fatti rischiano di perdere la tensione etico e morale di perché loro cosa rappresentano oggi il consiglio regionale ha coscienza di rappresentare quell'ideale di libertà per cui i giovani sacrificavano la loro vita io credo non sempre quando le cose sono rutinarie si dà per scontato che esistano da sempre così come quando apriamo il giubinetto l'acqua per noi è una cosa naturale che ci sia le nostre case poi c'è sempre stato chi ha vissuto nella libertà e quindi non dà secondo me quella attenzione per cui le loro azioni dovrebbero essere coerenti per rispetto a coloro che ce le hanno concesse è rispettosa e non sempre la politica oggi rispetta quegli ideali dobbiamo dirlo e quindi ogni iniziativa come quella di oggi e le tante che la usò un po' fa ci devono richiamare a noi istituzioni a quella tensione morale a quella responsabilità che noi abbiamo rappresentando l'assemblea legislativa che consente oggi l'autogoverno di una regione assoluto speciale frutto di quel sacrificio sento sulle mie spalle la responsabilità di essere quantomeno fedeli trovare ispirazione da quella radice e lo dico e ringrazio il professor Galli della loggia perché quando lui definisce la guerra gli anni da 43 a 45 e 46 come anni nel quale si svilupparono anche nella nostra regione ma nel paese tre tipi di guerra la guerra civile è stata detto la guerra di liberazione e la guerra di classe e di fatto credo che lì ci sia in qualche modo anche la interpretazione dei fatti di Borsus e mi spiego perché è vero che le tre guerre in maniera centripeta convergevano nella lotta contro il nazifascismo cioè erano convinti tutti che l'obiettivo principale era quello e si lavorava in maniera concentrica verso quel tipo di risultato ma appena questa tensione finiva meno ecco che questa tensione centripeta convergente diventava centrifuga cioè ognuno tirava una parte della guerra e liberazione da quell'interesse sia quello di classe e quello di liberazione e questo era molto chiaro in me giovane democristiano quando da sempre ma diciamo 20 anni fa il momento gioia della presa cristiana saliva le malghe di Borsus per commemorare nell'indifferenza se non nella ostilità di ampia parte dell'opoglione pubblica della nostra regione faceva più male all'indifferenza che all'ostilità devo dire perché lì ancora si giocavano queste due tensioni diverse noi salivamo per dare onore a chi lavorava e chi aveva lavorato e sacrificato la propria vita per la guerra di liberazione e venivamo dimenticati osteggiati nascosti da chi invece ancora 20 anni fa non mille anni 20 anni fa ancora l'idea della lotta di classe la storia ci insegna che avevamo ragione noi avevano ragione loro perché le condizioni del nostro paese hanno dato in qualche modo la stura al fatto che il sacrificio di chi faceva la lotta di liberazione è stato quello che ha condotto il paese ad avere la democrazia che ha nel bene e nel male avere insomma la libertà senza aggettivi come dice lei che ha nel bene e nel male ma è frutto di quella parte che alcuni giovani 20-30 anni fa insomma volpetti vedo tanti portavano insomma in quel mese in quei giornate freddi di febbraio la commemorazione a quegli uomini quindi è un percorso che si collega con quell'etica della responsabilità che dicevo prima la usopo rappresenta in qualche modo con la sua attività la coraggio alla memoria perché se noi perdiamo la memoria siamo come quelle persone tante ne abbiamo credo anche ognuno la nostra famiglia di uomini che perdono o di donne che perdono la memoria attraverso la malattia l'alzheimer dicevo io ho avuto una zia e cosa diventano quelle persone diventano perdendo la memoria non hanno riferimenti non hanno ancoraggi sembrano persone sospese nell'aria che si spostano in base al soffio del vento dove le porta non ti riconoscono non sanno non riconoscendoti non si autoriconoscono ecco la società civile se perde memoria diventa così se non ricordiamo quei valori quelle radici non riusciamo a agganciarsi a niente siamo spostati e chi ha interesse ci può spostare verso il consumismo ci fa diventare tutti i consumatori la globalizzazione perdiamo le nostre radici diventiamo non più individui ma persone senza legali possiamo essere portati verso interessi di terzi con quegli strumenti tecnologici qualcuno diceva per cui facilmente specialmente i giovani sono influenzabili ecco allora la funzione è ancora moderna la funzione dell'osopo perché attraverso la memoria ci radica e attraverso la radice per chi crede a quella radice ci fa scoprire un'identità e in ultima analisi siamo più liberi e quindi grazie ancora all'osopo voglio fare omaggio al chiamo anche la professoressa del DIN qui davanti a me proprio per ricordare questi 75 anni della della targa del consiglio regionale la presidenza la targa che facciamo che rappresenta le nostre quattro province è il simbolo della nostra regione e quindi vogliamo dare a regalare alla professoressa grazie a tutti grazie a tutti Grazie.